Alleluia. Oggi abbiamo come tema, ascoltiamo bene Chiesa del Signore, l'unità della Chiesa. Ok, l'ho detto e lo ripeto di nuovo, abbiamo come tema l'unità della Chiesa. Sono sempre molto grato al pastore Petrone e alla sua squadra per il lavoro meraviglioso che stanno facendo. Amen e Amen. L'unità della Chiesa perché Dio ci ha dato la grazia di poter essere una Chiesa, una Ecclesia, come Gesù stesso ha detto io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno mai prevalere contro di essa. La prima menzione di Chiesa è già una guerra, una guerra con l'inferno. È come se la Chiesa è contrapposta direttamente, in modo diametralmente opposta alle opere delle tenebre. Cioè, se la Chiesa non fa opere di luci, la Chiesa non ha ragione di essere perché comunque il suo avversario, le opere, il Satana e i suoi demoni fanno opere di tenebre. Io mi voglio ripetere, cerchiamo di capire. La Chiesa è opposta direttamente al regno degli inferi. La prima menzione del nome Chiesa immediatamente nella Bibbia fa opposizione all'inferno e a Satana. Quindi sappiamo quali sono le loro opere, sappiamo ciò che il nemico sta facendo contro di noi, contro il mondo, contro la Chiesa, contro le libertà, contro la pace delle nazioni. E se la Chiesa non fa opere di luci, allora la Chiesa non è una vera opposizione al regno delle tenebre. Amen. L'unità della Chiesa, l'unità e non l'unicità, l'unità e non la conformità. Perché giustamente vedremo fra poco che l'unità non significa esattamente essere la stessa persona, intesa come esattamente la stessa cultura o la stessa modalità di fare. Invece l'unità è giustamente la diversità che tutta quanta rientra in un solo corpo, il corpo di Cristo. Cominciamo a leggere un versetto in Giovanni 17, l'Evangelio di Giovanni 17, versetto 21. Alleluia. È Gesù che sta pregando, il nostro grande Padre, che siano tutti uno, ripeti dall'altra parte come tutti, tutti, che siano tutti uno, non uni. Alleluia. Che siano tutti uno e come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Amen. Alleluia. Quindi in questo versetto capiamo già il corpo di Cristo, che loro, numerosi, paesi diversi, città diverse, culture diverse, background diverse, situazioni sociali diverse, insegnamenti, qualche volta non esattamente uguali, dottrine qualche volta sfumatamente non sempre perfettamente uguali, poi vedremo la differenza fra la dottrina non esattamente uguale e l'unità nello spirito. Che loro, nella loro diversità, nella loro pluralità, siano in singolare uno. Quindi il Signore vuole che la Chiesa sia una. In realtà la Chiesa è una, perché è scritto che Cristo non è divisibile, perché sei tu che mi segui adesso, Dio ti benedica, shalom. Se tu sei diviso, muori. Penso che l'hai capito bene. La Chiesa è di base una. Allora la preghiera, qual è lo scopo della preghiera? È perché se Dio in Cristo è uno e noi siamo in Cristo, ma dobbiamo realizzare questa unità nel mondo naturale, nel mondo vivente che possiamo toccare, nel mondo fisico. Questa unità non deve solo essere un concetto, che è comunque vero, che Cristo è uno, ma dobbiamo noi, piccoli Cristi, piccoli unti, credenti, cristiani, manifestare l'unità. Purtroppo nella Chiesa subentra anche l'odio. Non solo l'indifferenza, non solo il non conformarsi, o perlomeno non solo il non essere d'accordo. Purtroppo nella Chiesa c'è anche attivamente il carattere omicida dell'odio. Odiare il proprio fratello, dice l'escrittore, uguale a essere un omicida. Non c'è differenza. E noi, sia pastori, ministri, ma credenti, tutti noi, dobbiamo combattere contro lo spirito di Absalom, contro lo spirito di divisione, contro lo spirito di Isabel, che cerca di togliere la pace, la shalom di cui abbiamo parlato all'inizio, che ci è stata data dal Signore, con potenza e con forza. Noi dobbiamo opporci affinché non abbia successo. Alleluia! Che non abbia successo. La Chiesa è una e deve dimostrare davvero che è una. Leggiamo un altro versetto. Siamo in Prima Corintesi, capitolo 1, verso 10. Alleluia! Prima Corintesi 1, 10. Alleluia! Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad avere tutti, siamo sempre nel tutti, tutti uno, 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 tutti uno, medesimo parlare, e a non avere divisioni fra di voi, ma a stare perfettamente, perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Alleluia! Può sembrare difficile, può sembrare difficile, ma non è impossibile. Se noi sappiamo che siamo guidati dallo Spirito Santo, secondo Romani 8, 14, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Se sappiamo che siamo guidati dallo Spirito Santo e che lo Spirito Santo è al di sopra di noi come entità, l'anima e corpo, lo Spirito, lo Spirito nostro è già al di sopra di noi, è normale che possiamo essere uniti, perché l'unità non avviene dai luoghi inferiori, ma no, l'unità avviene nei luoghi superiori. Perché se, anche lo dice la Bibbia, se colui che è superiore è benedetto, colui che è inferiore lo è anche. Cerchiamo di capirci più concretamente. Se il tuo Spirito, Kamanasoka, io voglio dire a qualcuno oggi che la guarigione è pronta anche per te. Diabete, ascoltami bene, diabete. Tu non hai il diritto di stare in questo corpo. Ti hanno assiccato recentemente i diabete e ne sai soffrendo e cominciai ad avere paura perché ti hanno parlato delle complicanze del diabete. Io voglio dirti oggi, fratello, sorella anche, perché soprattutto per un fratello, ma credo che una sorella è implicata. Io voglio dirti che tu hai l'autorità sopra ogni scorpione e serpente. Alleluia. Stiamo parlando dell'autorità sopra Satana. E questa è la Chiesa. L'unità. L'unità del corpo di Cristo. Se lo Spirito, che è nobile, più nobile, è sopra, perché è pneuma, lo pneumatico è al di sopra della carne, ok? È santo e è unito. Il corpo non può che seguire. Se la macchina, il motore, va in una certa direzione, i sedili non possono che seguire. Quindi, se i nostri spiriti si uniscono, parlo come Chiesa, parlo come credenti, attorno a Cristo Gesù, le nostre piccole cosiddette divisioni non ci saranno, o perlomeno saranno minimizzate, perché noi andremo in convergenza verso lo scopo, verso il punto fondamentale. Perciò il fratello prima ha parlato di Gesù Cristo. Molto importante è Gesù Cristo. Noi stiamo militando per Gesù Cristo. Noi non stiamo militando per una denominazione, per una Chiesa, per una modalità di fare. Stiamo militando per Capo Gesù Cristo. Alleluia! E il Signore vuole che la Chiesa sia una attorno al suo Signore. Vogliamo leggere un altro versetto? Siamo in Efesini, un versetto comunque conosciuto. Efesini capitolo 4, dal versetto 3. Ascoltiamo bene. Sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Fino al 6. Alleluia! Vi è un corpo solo e uno solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Amen. Non so se avete visto la spiegazione di questi versetti, perché quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo essere non superficiali, dobbiamo essere profondi, dobbiamo meditare la parola di Dio. Meditare significa ruminare, significa masticare fino a scomporre in elementi assimilibili, assimilibili, come fosse una digestione. Gli elementi della parola di Dio. Più volte si dice uno, 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 e poi si continua con tutti, tutti, tutti. Siamo sempre nell'unità della Chiesa. La Chiesa è diversa, è plurima. Non ci sono Chiese, come dicono, etniche o no. Ci sono Chiese, c'è la Chiesa, punto. C'è la Chiesa. Ognuno mette il nome che vuole, ma c'è la Chiesa. Poi c'è la diversità, alleluia. C'è la diversità che vediamo anche nei libri dell'Apocalisse, che ci sono Chiese diverse, con problemi diversi. In tutte le lettere la Bibbia è piena di Chiese diverse, addirittura con problemi alcuni gravissimi a livello carnale, qualcuno meno grave a livello carnale ma più spirituale. E non è qui il punto. Il punto è, dobbiamo essere radunati attorno al nostro Signore. Cioè, dobbiamo avere la capacità di minimizzare ciò che non conta. Nella dottrina parlavamo prima, c'è la dottrina fondamentale. Poi ci sono considerazioni. Cioè, non possiamo essere radunati attorno a dottrine secondarie, fra virgolette secondarie. Ma, perlomeno, non principali. Alleluia. Ci siamo capiti. C'è la dottrina, quella di Gesù Cristo, quella che ci unisce alla Sua parola. È ciò che deve attrarci, è ciò che deve essere per noi il pane da mangiare. Alleluia. Quindi, voglio dire a qualcuno oggi che non parlare male dell'altro tuo fratello, dell'altro ministro, anche se non capisci quello che fa, anche se non ti è molto simpatico, i suoi modi di fare, anche se secondo te ci metti il dubbio su alcune sue azioni, doni e manifestazioni, sì, magari non sei propriamente d'accordo, e si capisce perché non sei lui e lui non sei, non è te. Però, per carità, non parlare male. Perché l'unità ci obbliga a essere in convergenza verso Gesù. Quello che non conta non ha bisogno della nostra attenzione. Ma se qualcuno parla di Gesù Cristo, c'è una salvezza per le anime, c'è il battesimo dello Spirito Santo, c'è l'invito a battezzarsi, a confessare Gesù. Per noi è già un punto di partenza. E siamo tutti felici. Alleluia. Siamo tutti felici che la Chiesa avanza, che il Regno avanza. Alleluia. Quindi, fratello, sorella, non ti soffermare su ciò che non conta. Parlo anche dei ministri. Ci sono raggruppamenti di ministeri. E' normale, in certo senso. Però, non sempre, non sempre siamo d'accordo su tutto. Ma possiamo essere almeno d'accordo sul fatto che Gesù Cristo è il nostro Signore. Leggiamo un altro versetto nella parola di Dio. Siamo in Prima Pietro. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 8. Prima Pietro. Infine, siate sempre tutti. Questa parola è meravigliosa a tutti. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli. pieni di amore, fratello, e misericordiosi e umili. Alleluia. Siete tutti concordi, compassionevoli. E' sempre l'invito, l'invito, l'invito a essere in una sola mente. La mente di Cristo. Non esiste il tuo carattere. Alcune persone dicono, io sono così. Ma tu non sei niente. Tu non hai bisogno di essere così, affisso lì davanti per pretendere che tu sei così. Tu devi avere il carattere di Cristo. Scusami. Alleluia. Non dire, io sono fatto così. Non esiste, io sono fatto così. Esiste, semmai, io sono fatto come Cristo. Io sono un seguace di Cristo. Io ho, ho manifesto, il frutto dello Spirito Santo. Questo lo devi dire. E se non lo puoi ancora dire, ahimè, preghia. Preghiamoci sopra. Pregaci sopra. Affinché il tuo carattere non venga giustificato con il cosiddetto, sono sempre così. No, devi cambiare. Sì, devi cambiare. Parlo proprio a un fratello. Devi cambiare. Non essere, non appoggiati sul tuo carattere così vecchio che sta per morire. Appoggiati sul tuo carattere nuovo. Su quello del cielo. Su quello di Cristo. Alleluia, meraviglioso Signore. Alleluia. E se tu mi segui e che ancora devi fare la pace con il Signore, perché sappiamo che molti seguono il canale e magari stanno facendo o un percorso o devono ancora rendersi conto e che il tuo carattere ha l'impressione che non è così bello. È possibile che tu non abbia mai ricevuto Gesù nella tua vita. Non dico che quelli che l'hanno ricevuto sono perfetti, ma io dico che se tu hai l'impressione di non essere mai cambiato, di commettere sempre lo stesso peccato, gli stessi peccati, sistematicamente e da anni e da anni e da anni, malgrado che un pochino segui ogni tanto la Chiesa o il programma, è probabile, molto probabile, che non sei già nato di nuovo. Perché la nuova nascita produce il cambiamento. La nuova nascita è una nuova natura. E se ti capita e hai un dubbio, anche se è un minimo dubbio, seppur hai già fatto questa preghiera ma senza convinzione, ascoltami, ci fermiamo un secondo e preghiamo insieme. La preghiera di salvezza è in cui tu davvero accetti Gesù nella tua vita. Tu gli inviti dentro di te, a fare parte di te, chiedi allo Spirito Santo di diventare il tuo, la tua guida. Alleluia. Possiamo pregare insieme, solo un minuto insieme. Puoi ripetere dopo di me, ma non è la ripetizione che conta, è la tua preghiera. È solo una guida. Alleluia. Usa pure le tue parole, non importa, ma usa lo Spirito di cui stiamo parlando. Signore Gesù, grazie. Grazie di parlarmi ancora in questo momento. Io voglio diventare una nuova creatura. Io ti ricevo nel mio cuore come il mio Signore e il mio Salvatore. Grazie di perdonarmi di tutti i miei peccati, di salvarmi con la tua parola. Vieni ad abitare in me. Aiutami a essere guidato in una comunità o presso dei credenti in cui posso crescere e manifestare pienamente questo amore che tu mi hai dato. a me e a me. Se ti è capitato di averlo fatto, puoi scrivere, puoi commentare. Intanto stiamo parlando dell'unità dei credenti, leggendo un altro versetto. Filippesi, capitolo 2, dal 2 al 3. Rendete perfetta la mia gioia, questo è l'Apostolo Paolo che sta parlando, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Wow. Questa parola medesima è sempre presente. Non fate nulla, attenzione, per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a sé stesso. Alleluia. Non fate nulla per vanagloria. Qui stiamo sempre parlando dell'unità. L'unità porta insieme a sé l'umiltà. Ripeto, l'unità porta con sé l'umiltà. Perché per essere incastrati l'uno all'altro qualcuno ben deve stare sopra di te. Sì, qualcuno forse sotto, ma qualcuno sopra. Perché il muro, perché il muro si ha eretto, le matonelle devono per forza essere una sotto un'altra e sopra un'altra. Non so se mi sto facendo capire. Quindi, l'umiltà è accettare qualcuno che può passare sopra di te. Senza essere irascibile, senza essere così arrabbiato. Accettare di perdere un po' qualche gloria, qualche gloriola posso chiamarla, perché non è una gloria. L'unica vera gloria è quella in Cristo Gesù. Accettare di perdere qualche considerazione degli uomini, qualche attenzione. Sì, permettere che qualcuno abbia l'attenzione che non sia tu. Questo è l'umiltà. E se vogliamo essere uniti, servi di Dio, fratelli, credenti, dobbiamo accettare che non sempre siamo i primi. Anche se pensiamo, vogliamo, desideriamo, speriamo essere i primi, dobbiamo accettare che non lo siamo per forza. dobbiamo accettare che qualcuno che predica meno di noi, con meno unzione, con meno potenza, abbia una chiesa più grande, abbia seguace di più. Dobbiamo accettare che una donna, magari, che non è proprio delle più, secondo noi, ecco, come si dice, più santissime che ci siano, possa anche manifestare la gioia del Signore e benedire qualcuno, oppure un uomo, oppure un bambino. Quindi, l'unità sta anche, passa anche nell'accettare che non siamo noi a essere avanti, ma qualcun altro può essere avanti. Ma noi, come chiesa, come una squadra, dobbiamo essere i primi tifosi della chiesa. Ripeto, tu devi essere un tifoso della chiesa, devi essere lì pronto, nella curva nord, alleluia, curva nord, vai, gol, gol, un'anima è entrata in quella chiesa meravigliosa, non è nella mia chiesa, ma va benissimo. 50 si sono convertiti in questa chiesa, wow, meraviglioso, abbiamo segnato ancora. Non è la tua, non è grave. Non vedi un'anima che si è convertita da 5-6 mesi, un anno, non è grave. L'altro ha avuto 100-200 persone, amen, amen e amen. È la squadra che ha segnato. Quindi, voglio dire a qualcuno, amiamo l'unità, amiamo l'amore, abbiamo l'umiltà, precede la gloria e poi, in cielo, saremo tutti uniti. Inutile essere qui, divisi, se poi saremo uniti e cominciamo a essere uniti. Impariamo, alleniamoci, alleluia. Dio vi benedica e voglio pregare per qualcuno che abbia bisogno di un'altra preghiera. Magari tu, nella tua coppia, non sta andando come deve andare e lo sai, non gira nel senso giusto. ci hai provato, ci metti anche tutta, ce la metti tutta, ma non va come tu vuoi. A volte non è solo il parlare, non è solo io ho detto, a volte c'è anche la grazia di Dio che ci aiuta. Per questo dobbiamo pregare, perché non sempre siamo in torto o abbiamo per forza ragione. Qualche volta dobbiamo solo essere nella sua gioia, il vincolo della pace, la comunicazione dello Spirito Santo. A volte lì la differenza sta in questa comunione con lo Spirito Santo, non in ciò che noi facciamo oppure in ciò che noi non facciamo. Io voglio pregare per la tua coppia nel nome di Gesù. Qualunque sia le difficoltà in cui avete attraversato ultimamente, io prego e decreto che tu possa ricevere la shalom di Dio. Io voglio dire su di te shalom, shalom, che la grazia di Dio, la comunicazione dello Spirito Santo, l'amore di Dio Padre. Accompagni la tua coppia nella volontà perfetta di Dio. Io voglio pregare anche per una mamma che sta pregando per il proprio figlio. Se tu preghi per il tuo figlio, tu sei una mamma credente, ma il tuo figlio non è vicino al Signore. Lo vedi lontano, il tuo cuore non è proprio in pace. Voglio pregare insieme a te, mamma, nel nome di Gesù. io voglio pregare per te, insieme a te. Ci sono molti nomi che mi arrivano come figli. Adesso un nome che ho visto è Egintio, Egintio. Può anche non essere solo quello, può essere anche un altro. Ma io voglio pregare insieme a te, mamma. Io voglio decretare che questo tuo figlio, questo tuo figlio ritornerà a seguire il Signore. Mi appoggio insieme alla tua fede e alla grazia di Dio che sta scorrendo in questo momento e io voglio confessare e io voglio accettare la potenza di Dio in manifestazione e pregare insieme a te dicendo che questo mio figlio, tuo figlio ritorna nel Signore con la grazia di Dio. Alleluia. Io voglio pregare per un bisogno finanziario. Hai bisogno di comprare casa. Non è un problema comprare casa, Dio ci benedici. Alleluia. Ma tu non hai, non hai i soldi e lo vuoi fare. Stai facendo una cosa bella perché essere proprietario della terra dove sei è anche una buona cosa. Ma io voglio pregare insieme a te affinché Dio possa benedire le tue mani. Giustamente funziona spesso con le famose leggi, semina raccolta, ma non è solo quello. Anche se tu applichi tutte queste leggi a volte lo stesso ha bisogno della grazia di Dio. Direi che prima la grazia di Dio e poi le leggi possiamo applicare decima e tutto il resto. Io voglio pregare insieme a te affinché la grazia di Dio possa accompagnarti in questo acquisto. Che lui che dà il seme al seminatore ti possa dare il seme nelle tue mani. E mentre ti dà questo seme di non dimenticare che proviene da Dio e che Dio ha dritto in questo seme affinché la tua raccolta sia abbondante, abbondante e abbondante. Grazie Signore per la Chiesa del Signore. Io prego per la Chiesa di Napoli. Alleluia. Chiesa di Napoli io sento che hai bisogno di essere unita. La parola che io sento nel mio cuore per la Chiesa di Napoli non so se un pastore mi segue o mi seguirà. Dovete essere uniti. Avete ministri di valore. Avete anche una lunga storia cristiana. Ma c'è tanta divisione. Io prego nel nome di Gesù che voi potete superare il passato. Il passato è passato dice il Signore. Il passato è passato. Il passato è passato. Guardate avanti verso la santa vocazione. Verso la santa vocazione. Verso la santa vocazione. Verso la santa vocazione. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti.